È un trofeo, una competizione a cui vogliamo partecipare con grande impegno, con ambizione di poter arrivare fino alla fine e di vincere. È chiaro che andiamo ad affrontare delle squadre che, come noi, hanno fatto dei campionati importanti. In particolar modo domani affronteremo il Catanzaro, che nel loro girone è stata una schiaccia sassi facendo più di 100 gol. Per cui la curiosità di trovarci di fronte alle squadre che avremo contro anche l'anno prossimo in Serie B. Sì, dovremmo essere molto molto bravi contro una squadra che ha dimostrato di trovare con facilità la via del gol. Noi abbiamo faticato un po' di più nel trovare la via del gol, però abbiamo dimostrato grande solidità e domani dobbiamo per forza di cose darne la prova. Sì, sì, ma la convinzione e la fiducia di essere una squadra forte l'abbiamo dimostrato sempre. L'abbiamo dimostrato contro le squadre più attrezzate del nostro campionato e domani cercheremo, andremo a dimostrarlo anche a Catanzaro contro la squadra che, ad età di tutti, è stata la più forte di tutta la stagione. Sì, sì, ma la convinzione e domani cercheremo.